Attenzione ad Ibrahimovic che insegue il gol numero 27 in campionato davanti a Giulio Cesar che se ne sta adesso fuori dal campo forse un po' per spazientire il suo ex compagno di squadra che si pare avvertire anche un piccolo problema, niente di grave però per Giulio Cesar che adesso si avvicina a Ibrahimovic, fa di tutto per deconcentrarlo, Ibrahimovic cerca di non guardare Giulio Cesar, guardate un po' Giulio Cesar va a dire qualcosa a Dibra, gli fa la linguaccia, cose pazzesche si vedono questa sera a San Siro a 90 secondi dalla fine del primo tempo, un po' come Dudeca a Istanbul, Giulio Cesar addirittura ha fatto la linguaccia